Dopo aver presentato il suo nuovo libro a San Vitolo Capo e Favignana, ieri Selvaggia Lucarelli, editorialista per il Fatto Quotidiano, protagonista sui social e di numerosi programmi tv, tra cui Ballando con le stelle, è arrivata a Marsala per parlare del suo nuovo lavoro, Casi umani, uomini che servivano a dimenticare ma che hanno peggiorato le cose. Un libro che con autoironia e con coraggio ha permesso all'autrice di raccontare quattro anni di disavventure sentimentali, collezionate per la paura di restare da sola e di affrontare anche temi più forti, a partire dalla dedica del libro a Valentina Pizzalis, che stava per essere uccisa dal marito, che la cosparsa di benzina deturpandole il corpo e che nel tentativo di toglierle la vita è poi morto. L'abbiamo intervistata. Casi umani, quattro anni di disavventure sentimentali sostanzialmente avute per la paura di rimanere soli. Quanti danni può fare la fragilità? Moltissimi, perché porta alla ricerca spasmodica talvolta, come nel mio caso, di insomma qualcuno che ti aiuti a superare quei momenti di desolazione sentimentale. Quindi anziché viverteli in religioso silenzio, con maturità e saggezza, c'è chi se li vive con me con totale immaturità e con l'ansia di cercare qualcosa che possa stordire un po'. Ci sono casi di cui poi si può sorridere, come nel tuo libro, altri casi invece che finiscono in modo tragico. C'è una bellissima dedica nel tuo libro, è a Valentina Pizzalis, che dici tu si merita adesso una vita bellissima. Valentina Pizzalis è una donna che ha avuto una vita veramente difficile. Sì, ha avuto una vita difficilissima perché l'ex marito ha tentato di ucciderla lanciandole una tannica di benzina addosso e dandole fuoco. È successo che invece purtroppo in questa grande tragedia lui ha perso la vita perché ha preso fuoco a sua volta e lei si è salvata seppur naturalmente sfigurata dalle ustioni. Tutto questo ha fatto sì che la famiglia di lui decidesse che in realtà lei aveva qualcosa da pagare, qualcosa da scontare, quindi da anni continua a insistere per vie legali perché ritiene che Valentina in realtà abbia provato a uccidere l'ex compagno, sebbene ci siano tutta una serie di prove che smentisce questa ricostruzione nella maniera più assoluta.